con mister cassia ormai mancano pochi giorni alla sfida di cervia contro il san zaccaria che settimana è stata e cosa si aspetta dalla sua squadra è stata una buona settimana la squadra l'ho vista più pimpante sappiamo benissimo che andremo a incontrare una squadra che comunque nell'ultimo periodo ha fatto abbastanza bene lasciando perdere la partita di brescia è una squadra che anche all'andata ci ha impensierito e quindi mi aspetto una partita una nuova battaglia perché insomma questo è un campionato come sempre detto difficile e quindi noi ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa partita diciamo che se il tavagnacco riuscirà a giocare come ha giocato nel secondo tempo contro il verona insomma problemi teoricamente non ce ne saranno è d'obbligo avere lo stesso la stessa grinta stesso temperamento della partita perché altrimenti se noi andremo a giocare come abbiamo giocato col Como e con Luzerna sicuramente non verremo fuori bene quindi mi aspetto una partita giocata ad alta intensità e poi vedremo la fine insomma ma io io credo comunque che la squadra abbia capito il momento e comunque bisogna bisogna anche tenere presente che comunque ogni partita fa storia a sé quindi l'importante è metterci lo stesso temperamento di Verona insomma